Ciao amici di Automobile.it, tra Black Friday e promozioni per le festività, questo è veramente il periodo migliore dell'anno per rendere felice il vostro portafoglio, o infelice, vabbè. Rimanendo in tema di sconti, ce n'è uno molto interessante che ha a che fare con le nostre amate auto e elettriche. Avete installato delle colonnine nel garage privato nel condominio? È il momento di approfittare dei contributi statali che rimborsano quasi per intero le spese per installare queste infrastrutture, fondamentali per rendere veicoli e batteria davvero alla portata di tutti. Vogliamo vedere insieme di cosa si tratta nel dettaglio? Sì, ma prima però lasciate un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto attivate la campanellina per rimanere super aggiornati su tutti i nostri contenuti in uscita. Io, Matteo Valenza, ovviamente sarò qui per voi ogni settimana insieme a tutti i miei colleghi a tenervi ben intrattenuti. Ed eccoci allora, dovete sapere che il governo, in base al decreto del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022, sostiene l'acquisto e la posa dell'opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuati da privati e condomini. Sono stati 40 milioni messi sul piatto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli stali di ricarica domestici installati dal 4 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 e udite udite, la stessa cifra viene riproposta anche per quest'anno. Altri 40 bei milioncini che si rivolgono a due tipologie di utenti ben precisi, persone fisiche, ovviamente residenti in Italia, condomini rappresentati dall'amministratore protempore o da un condominio delegato per le parti di uso comune secondo gli articoli 1117 e 1117 bis del Codice Civile. Abbiamo capito chi riguarda, ma veniamo al dettaglio più interessante, in soldoni, in quanto ammonta questo sconto? Beh, si arriva all'80% delle spese ammissibili, di cui vi parlerò nel dettaglio tra poco, per l'installazione delle colonnine, quindi non buttatelo via, eh? 1.500 euro per i privati e fino a 8.000 euro per i condomini. Attenzione però, il bando vale solo per le installazioni dal 1 gennaio 2023 al 23 novembre 2023. Insomma, avete circa una settimana per farle montare, cosa più importante, inoltrare in tempo la domanda per ricevere il contributo. La deadline per inviare le richieste scade alle 12 di giovedì 23 novembre, vi basta accedere tramite Speed, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi alla piattaforma online gestita da Invitalia. A quel punto non rimane che compilare il modulo elettronico, seguendo le indicazioni presenti sul sito, e vi assicuro che non è nulla di complicato. Bisogna inserire i dati, i documenti necessari, a seconda che siate privati o condomini. Prima vi parlavo di spese ammissibili, eh sì, perché non vi saranno parzialmente rimborsate, ad esempio quelle relative alle imposte, ai terreni e agli immobili, oppure alle autorizzazioni edilizie. Quindi fatevi bene i conti prima di avere brutte, bruttissime sorprese. Via Libera, invece, è l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, a potenza standard, si intende, comprese le spese per installare le colonnine, per gli impianti elettrici, per le opere edili necessarie, oltre che per gli impianti e dispositivi per il monitoraggio. Ah, e il contributo è valido pure per i costi legati alla progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi, ma anche per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo pod. Point of delivery, quella roba lì, il contatore, insomma. La priorità delle domande segue l'ordine cronologico e i fondi non sono infiniti, anzi, in ogni caso, se la vostra richiesta va a buon fine, entro 90 giorni riceverete l'incentivo statale in un'unica soluzione. Va, lì, sul conto corrente, via, soldi, money, money, money. Mio consiglio quindi, ragazzi, non perdete tempo. Trovate veramente tantissime colonnine compatibili. Direi che anche se non avete un'auto elettrica, ma magari state pensando, non so, un domani di comprarvi una ibrida, plug-in, o un domani di comprarvi un'auto elettrica, fate ora la vostra scelta. Ragazzi, i soldi non sono infiniti, meglio sfruttarli. Ciao!